Oggi giocherò per la prima volta in assoluto a Baldis Basics, ma con lo skibi di Toilet che mi inseguirà per tutta la scuola! Siete curiosi di sapere se, e soprattutto come, riuscirò ad uscire da questo incubo? Restate con me fino alla fine per scoprirlo! E se questo video vi è piaciuto e non vi sto totalmente antipatico, vi ricordo che potete iscrivervi al canale e lasciare un bel mi piace, che fa sempre piacere! Buona visione! Allora, dobbiamo capire, perché qui secondo me finirà malissimo! Posso entrare in queste porte gialle? Non posso entrare in queste porte gialle! Ah! Devo collezionare due notebook per poterle aprire, va bene! Non posso muovere la visuale su e giù, ma solo sinistra e destra! Comincio già a cacarmi sotto! Qui ci sono degli snack! Posso mangiare degli snack? Dai! Ho fame! Che poi uso lo skibi di Toilet per andare in bagno nel dubbio! Qui invece abbiamo la B-Soda! E cosa cambia da una soda normale? Perché si chiama B-Soda? Comunque, da quello che ho capito, dobbiamo entrare in queste porte blu, che sarebbero le classi! Sì! Con i banchi leggermente buggati! Ah! Qui abbiamo il primo notebook, mamma mia ragazzi! Io non ci capisco nulla! Ah! Dobbiamo risolvere dei quiz matematici! No! 8 più 4! 8, 9, 10, 11! Allora! 12! Ok! 6 più 5! 11! Ok! 0 meno 6! Aiuto! E-e-e meno 6? Oh! Oh! Ce l'ho fatta! Da quello che ho capito, più sbagliamo, più lui si arrabbia e ci viene a prendere! Ehm... Cantando skibi di dop, dop, yes, yes! E-e-e... E mi sta venendo l'ansia! Ragazzi, non chiedetemi dove io abbia trovato la versione modificata di Baldis! Con lo skibi di toilet, perché non lo so manco io! 6 più 3 è 9! 6 meno 2 è 4! No! 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 No, no! Mi state prendendo in giro? E la risposta è C! No! No! C è cancella! Sono un idiota! La risposta è meno! Non è meno! Ragazzi! Ragazzi, lo sentite? Yes! Skibi di doppie! Yes! 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 No! 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 Che cosa raccogli... No! Dov'è? Ragazzi, ragazzi! No, 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 no! Apri! Apri! No, 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 bro, bro, bro! Skullf! No! Che cos'è? Oh! Una barretta di cioccolata! Adesso posso usare lo skibi di toilet! No, 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 devi correre, bro! Devi correre, bro! Ragazzi! Ragazzi! Ce l'ho dietro, ragazzi! Ce l'ho dietro! Mi sto cacando addosso! Mi sto cacando addosso letteralmente! Mi prego! Dove devo andare? Dove devo andare? Dove devo andare? Ah! Ah! Oh, ma la stamina vuole salire No, 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 ti prego, ti prego, ti prego, ti prego, ti prego, risparmiami Ragazzi, ma la sentite la musica? Aspetta, aspetta, no, 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 qua non c'è il notebook, l'ho già... No, no, lasciatemi, lasciatemi, lasciatemi in pace Ma perché ho deciso di giocare a Baldi's Basics? Qua non c'è il notebook, ok? Prova ad andare da questa parte No, no, ti prego, ti prego, risparmiami Ok, ok, devo trovare altri quattro notebook da questa parte No, ma ci sono già stato Aiuto, aiuto ragazzi, vi consiglio di restare fino alla fine del video Per scoprire se riuscirò a scappare dallo schibi di toilet E soprattutto se riuscirò a scappare da questa scuola Ma perché avete creato un gioco che serve per l'istruzione? Mettendoci dentro un cesso nextbot che ci insegue Però per fortuna credo sia abbastanza lento No, 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 devo stare zitto Devo stare zitto, ti prego, ti prego, ti prego, ti prego Posso andare da questa parte? Sì, posso andare da questa parte Cos'è quella roba lì dentro? Ma che ansia, apri No, 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 belli questi disegni Ti piacciono questi disegni? Anche a me tantissimo Leggi le regole della scuola Io intanto mi vado a fare una passeggiata Non mi andrò a fare una passeggiata Lì c'è un telefono gigante Aspetta, ne ho trovato un altro Piano, 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 piano Ok, quando prendo il notebook per risolvere i quiz Lui non mi insegue Uno meno tre dovrebbe essere meno due Ok Nove più sette dovrebbe essere sedici No, no, ragazzi Come si risolve sta roba? No, non ha senso Non ha senso La risposta è ok? No! La risposta non è ok La risposta non è ok Dove è andato? Ce l'ho dietro, ce l'ho dietro, ce l'ho dietro Però mi si è ricaricata la corsa Piano, 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 piano Ho tre notebook su sette Questo vuol dire che li prendo Comunque, no, 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 no Ma voi la sentite la musica? Mi sta venendo un'ansia assurda Ok Ho preso una lattina Ah, quindi la barretta proteica mi dà stamina infinita per un certo periodo di tempo Vai, 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 vai Un altro notebook Siamo a quattro su sette Piano, 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 piano Ok Allora, allora Con calma Cinque più uno è uguale sei Due più cinque uguale sette No, dai, però Ragazzi, non possiamo continuare così Mi scrivete nei commenti come risolvere questo abominio Questo è duemilasettantacinque Eh, boh, la risposta è nove, 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 nove No, 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 no Ha detto che diventa sempre più arrabbiato man mano che sbagliamo le risposte Sì, ma non mi puoi mettere quelle domande No, no, dai, 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 parliamone Ho bevuto la soda Ma Ragazzi Gli ho mandato dietro una specie di disputo di soda E lui se n'è andato Che faccio con la moneta? No, con la moneta non si può fare niente Entra, entra Che qui abbiamo il quinto Veloce, 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 veloce Come, come faccio? Le forbici Posso prendere le forbici? Ti taglio Ti taglio Non posso, non posso, non posso No, 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 no Non voglio perdere adesso Non voglio perdere adesso Lasciami in pace Lasciami in pace Lasciami in pace Oh, Dio Mamma mia, ragazzi Ho premuto sul notebook un istante prima che mi mangiasse Sette meno tre E quattro Sette più quattro dovrebbe essere undici Sette, otto, nove, dieci, undici, sì Ti prego Ti prego Come lo faccio a risolvere questo, ragazzi? Eh, sette, due, cinque, otto Io non lo so È cinquecentosessanta No, non è cinquecentosessanta Come si risolve quella roba E poi c'è un fidget spinner Perché c'è un fidget spinner? Questa volta non mi batterai mai Io so come ti muovi So dove vai Non so la matematica Sette meno quattro È tre Iniziamo benissimo Sei più tre nuove Ragazzi, vi giuro che usciremo da qui Costi quel che costi Otto meno zero è sempre otto Perfetto Il primo notebook ce l'abbiamo Questa è la volta buona Muoviti Fantastico Lui non mi prenderà mai Certo Inizierà ad arrabbiarsi un attimo Quando sbaglierò i calcoli Cioè adesso Ma questo non vuol dire nulla Otto Velocissimo Sette Velocissimo Eh, tua madre Trentaseimila No No, 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 no Che ansia quando inizio a sentire Schipiti Dop, dop Yes Ma poi sentite No, 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 no Eh, oh, oh Sentite quanto è lenta Io dovrei andare Ma da dove sta uscendo lui Eh, monetina, monetina Ma dove è andato quell'imbecille? Voglio andare da questa parte stavolta Ok Qui c'è un'altra stanza No, 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 no Aspetta, 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 aspetta No, 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 via, 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 via Dai Ma Ma Pensava fosse andato da quella parte Invece sta andando di qua Aspettate, mi fermo per recuperare la stamina Tu non mi hai visto, bro Tu non mi hai visto, bro Tu non mi hai visto, bro O lì c'è un'altra monetina Le monetine sono utilissime Perché ci danno la possibilità di mandarlo indietro Oh C'è un notebook Questo non l'avevo mai visto Ok, piano, piano, piano Ce l'ho dietro Oh Ok, sì Vai 8-0 8 6-4 2 1-2 C No Che cosa ho fatto? Si è cancellato tutto Vabbè Ma potete scrivermi nei commenti E spiegarmi Se questa roba è fatta apposta? Perché non ha senso Come faccio a capire Cosa scrivere lì dentro? Ok Dimmi che questa È la soda? Sì Questa è la bisoda Adesso Grazie a questa lattina Che comprerò con la mia monetina Vai Vada retro Satana Perfetto Ce n'è un altro Oh Siamo già a 4 su 7 E manca tutta l'altra parte 4 più 0 è 4 6 più 5 11 36 9 8 5 2 2 0 Vabbè Ovviamente Questo è sempre sbagliato Io non immagino 7 su 7 Cosa succeda Cioè praticamente Comincio a inseguirmi urlando Guardalo È ancora bloccato Recupera ancora la stamina Recupera ancora la stamina Vai 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 Questa è nostra ragazzi Questa è nostra Riusciremo a dribblarlo E riusciremo A mandarlo via Ok Qui c'è qualcosa di interessante Sì Quello snack è utilissimo No 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 Però mi vado a chiudere Non posso prendere lo snack Ma posso prendere la lattina La lattina è comunque utilissima No no fammelo prendere da qua Maledetto Va bene va bene Recuperiamo un po' di stamina Nel frattempo che arriva Nel dubbio possiamo usare La lattina Mi sta mettendo ansia Non sta arrivando Ok 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 sta arrivando Allora Da questa parte Sì C'è quello rosso Vai 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 È nostra È nostra Vai 0 meno 0 è 0 Suppongo 8 più 5 Fa 15 No ho sbagliato Non fa 15 23 5 4 8 Esplosione nucleare Vieni maledetto Ti aspetto al varco Tu Non puoi Passare Bravo 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 Adesso appena esce Noi lo facciamo Andare indietro Vai Perfetto 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 Qui da qualche parte dovrebbe esserci Quello verde se non erro Sì Mamma mia mamma mia Sono un genio del crimine Ok 2 più 2 è 4 0 meno 2 E meno 2 E questo Non ho capito che cos'è Dovrebbe essere 7 5 6 3 2 0 Vai No niente Niente Assurdo Però siamo a 6 su 7 Guinness world record Schibi di toilet Ma le forbici ragazzi Qualcuno mi sa dire A cosa servano Esattamente Vai 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 non chiudere la porta Ma sei tutto scemo Allora Allora Ok piano 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 Qui ci sono delle chiavi Buono 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 Ok Ok Non ho la minima idea Di cosa io debba fare Con questa roba Però ce l'ho dietro E mi sta mettendo ansia Tanta ansia Posso farcela ragazzi Ne manca solamente uno Sta da queste parti No no sta da queste parti Aiuto 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 No non è questo Si Si È l'ultimo Piano 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 Oh ok Quattro Sei meno tre È tre E questo è Due Zero uno No non è Due zero uno Veloce 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 Vai 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 corri 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 Ce l'ho dietro Sono a sette Sono a sette Sono sette Vai 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 Dov'è l'uscita Dov'è l'uscita No no ragazzi 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 Ma avete sentito anche voi Quella è l'uscita 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 No Bro Bro Ragazzi Ragazzi non ho capito Che cosa sta succedendo a questo gioco No io lì non ci entrerò mai e poi mai È diventato tutto rosso tipo demoniaco Non sto capendo Non sto capendo Ve lo giuro ragazzi Che cosa è successo Qualcuno può spiegarmi Che cosa sta succedendo a questo gioco Devo ritornare all'uscita Ci sto provando Forse devo uscire e riuscire Ok piano 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 Posso farcela Ho tutti e sette i notebook giusto No 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 C'è un'altra uscita Ma ce l'ho dietro No no ragazzi Ragazzi per favore Per favore Dobbiamo unire le forze E uscire tutti insieme Dammi la moneta Così almeno lo posso mandare via Ok Ok Vedo la scritta exit Posso farcela Posso farcela Maledetto infame Ti ho battuto su tutti i giochi Riuscirò a batterti anche qui C'è anche una macchinetta Che dovrebbe vendermi la soda Ok 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 Quando non lo sento più Mi viene l'ansia Oh No Ok 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 va bene Va bene posso farcela Dammi la soda Dammi la soda Dammi la soda Vattene Perfetto Devo trovare l'altra uscita ragazzi Devo trovare l'altra uscita Si è arrabbiato tantissimo Eccone un'altra Piano 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 Dov'è Dov'è Ti prego Ti prego sto per impazzire No 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 Ok 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 ragazzi ragazzi Si sta mettendo peggio del previsto Molto peggio del previsto Mi sto calcando sotto Per favore E il fatto che sia un cesso Ad inseguirmi Potrebbe dirla molto lunga Aiuto 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 Sinistra o destra Sinistra o destra Vado a sinistra Ok C'è un'uscita da qualche parte Ti prego Ti prego Ti prego Ti prego Ti prego Dai No 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 Da qui non si può uscire Da qui non si può uscire Ok 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 Facciamo il giro Facciamo il giro Ce l'ho ancora dietro Mi sta esplodendo il cervello Non so se lo sentite anche voi Ma questa roba È completamente fuori di testa Mi si stanno bruciando i neuroni Aiuto No Qua non c'è l'uscita Dai Dai C'è da qualche parte Questa stramaledetta uscita È questa Dimmi che è questa Sì Non ci credo Abbiamo vinto Baldi Basics Con lo schibi di toilet Ce l'abbiamo fatta Al prossimo video Mi si è spento il gioco Vabbè Ma manca a far così però